Le preoccupazioni ci sono tutte perché non vorremmo ritornare ai tempi dell'anno scorso quando le bollette sono schizzate vertiginosamente a prezzi insopportabili per imprese. La preoccupazione c'è ed è tanta. Il caro bollette offusca il luccichio del Natale. Le imprese zoppicano ancora dopo il Covid e la guerra in Ucraina. Il futuro ora è sempre più incerto. Gli aumenti in bolletta sono già stati annunciati. Come se non bastasse poi, il mercato tutelato di luce e gas è destinato a chiudersi nei primi mesi del 2024. Sarà così necessario scegliere con attenzione fornitore e tipo di contratto. Dobbiamo stare assolutamente attenti. Noi come associazione faremo uno screening delle ditte delle aziende che hanno i prezzi migliori ma hanno anche garanzia perché vogliamo anche la garanzia della fornitura e quindi saremo vigili su questo tema. Ma a Roma è già scontro. Il governo traccia la linea. Stop al mercato tutelato. Il vice premier Matteo Salvini in primis si mette di traverso. E intanto imprese e famiglie sono allo stremo. Già in difficoltà per l'inflazione lavatissima che c'è stata. Adesso se usciamo anche e non c'è una proroga dal mercato di maggior tutela per andare sul mercato libero la cosa di per sé potrebbe non essere un male se il mercato fosse veramente libero. Il governo deve sorvegliare, io non dico di calmierare, deve sorvegliare che non ci siano i picchi di aumenti ingiustificati. Crediamo che si dovrebbe concedere una deroga, crediamo che si debba lavorare meglio sul controllo dei prezzi. Per quel che riguarda poi il mercato libero noi per principio non siamo contro, ma bisogna fare il bene dei cittadini. Abbiamo bisogno di riprendere la nostra normalità, fare gli imprenditori, che vuol dire guardare il futuro con un certo tipo di fiducia e non dobbiamo assolutamente avere incertezze.